siamo in compagnia di daniel lumera che ci guiderà in un esercizio per recuperare il benessere io direi fisico mentale daniel è corretto e quindi acquisire quella consapevolezza attraverso proprio la respirazione consapevole aiutami tu a descrivere con parole più corrette quello quanto è l'obiettivo dell'esercizio che tu ci suggerisce ci insegnerai ma facendo così seguito a quanto detto nel video precedente quindi questa necessità che abbiamo di riportare il benessere anche nel nostro luogo di lavoro quindi dentro di noi io credo che abbiamo tutti i bisogni quindi ti sono grata per per la tua disponibilità in realtà questo esercizio è un esercizio molto semplice è basato su una solida letteratura scientifica che ha dimostrato in buona sostanza che regolando il nostro respiro noi possiamo incidere enormemente non solo sull'ossigenazione del cervello quindi sulla lucidità sulla presenza sulla creatività ma anche su diverse funzioni fisiologiche che sono alla base della nostra salute della qualità della nostra vita per esempio questo esercizio specifico che tra pochi secondi vi guiderò ha la capacità di regolare degli importantissimi neuromodulatori all'interno del corpo sono quattro in realtà sono cinque primo fra tutti e la dopamina quindi riesce a regolare la dopamina che è la base di tutti i processi di dipendenza non solo da droghe d'alcol ma dipendenze affettive dipendenze da social da tutte quelle fonti di distrazione che possono abbassare la qualità del lavoro della nostra vita personale poi agiremo attraverso la respirazione su un secondo ormone importante che invece è la noradrenalina quindi il nostro cervello effettuando questo ciclo di respirazione produrrà ipinefrina che poi si trasforma in oradrenalina e quindi stimola la voglia di fare la voglia di mettersi in moto la motivazione personale quindi è straordinario se volete fare una pausa al posto di prendere il caffè o associato al caffè volete fare una respirazione consapevole sappiate che i risultati sono per quanto mi riguarda molto efficaci pragmatici e anche straordinari a volte poi produrremo alla fine di questo ciclo di respirazione faremo una piccola pausa di apnea nel silenzio interno e in quello stato il nostro corpo bilancerà sia la serotonina che l'ossitocina quindi due ormoni che sono legati al piacere alla felicità e alla sensazione di contenimento di amore però regoleremo anche tutti gli ormoni che sono legati allo stress quindi abbasseremo i livelli di ormoni legati allo stress questo questa tecnica tanto semplice in realtà è una piccola pillola una piccola medicina naturale che all'occorrenza sia come pronto soccorso sia invece come pratica costante durante tutti i giorni noi possiamo assumere e guadagnare tanto è in benessere fisico mentale come diceva nicoletta prima e poi anche in produttività e creatività se voi siete d'accordo se nicoletta d'accordo io in dieci secondi vi spiego cosa faremo e poi se volete guido la tecnica in modo che voi possiate avere questo reminder questo post it respire di respirazione a vostra disposizione consigliarlo anche alle persone che che volete insomma introdurre a questo tipo di pratica quello che faremo adesso è semplicissimo guiderò contando con la mia voce 28 respiri ispirando dalle narici ed espirando dalla bocca vi faccio una raccomandazione questo tipo di tecniche servono per farci stare bene non per farci stare male quindi ognuno di voi a prescindere dal mio ritmo deve avere la gentilezza l'accortezza la sensibilità di rispettare se stesso quindi seguite il vostro ritmo nel caso il mio ritmo sia eccessivo il primo effetto che avremo sarà quello di ossigenare il cervello cioè la livello di anidride carbonica di ossigeno nel cervello si bilancerà e produrrà magari un po di calore per avere un lieve senso di vertigine va tutto bene normale stiamo respirando e aumentando la capacità di aria appunto all'interno di ossigeno nel nostro organismo alla fine dei 28 respiri vi dirò di svuotare i polmoni rimaneremo circa 10 secondi in apnea con i polmoni vuoti in questo modo il cervello produrrà appunto epinefrina e poi in quel silenzio bilancieremo tutti gli altri ormoni faremo tre respiri profondi regolarizzeremo il respiro e la tecnica è finita potrete ripeterla quante volte volete due tre quattro cicli fino a sette cicli a seconda di quanto siete allenati e di che effetto volete a livello proprio di ossigenazione di risveglio di tutto il corpo se siete pronti vi chiedo di sedere sedetevi allora sediamoci con la colonna vertebrale retta facciamo un profondo respiro possiamo chiudere gli occhi se vogliamo chi di voi invece può rimanere con gli occhi aperti può farlo e vi chiedo di portare l'attenzione al respiro meglio la sensazione che l'aria crea in questo momento mentre entra ed esce dalle nostre narici e vi chiedo di rendere la respirazione un atto di consapevolezza di presenza quindi rendete la respirazione progressivamente più lenta profonda naturale rilassata ad ogni ispirazione seguite l'aria che entra fino ai polmoni lentamente e ad ogni espirazione rilasciate ogni tensione ci prepariamo quindi per eseguire i 28 respiri si inspira dalle narici entra ossigeno chiarezza vita e espiriamo dalla bocca soffiamo dalla bocca rilasciando ogni tensione respiriamo insieme 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 8 9 10 1 2 3 4 6 7 6 7 8 9 10 1 2 3 4 6 7 7 9 10 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 3 4 6 7 7 8 9 10 1 3 4 6 7 7 7 8 8 Ascoltate ogni sensazione per alcuni secondi Ascoltate ogni sensazione per alcuni secondi Ascoltate ogni sensazione per alcuni secondi Inspiriamo profondamente dal naso Lasciamo andare dalla bocca ogni tensione Ascoltate ogni sensazione per alcuni secondi Ascoltate ogni sensazione per alcuni secondi sopra il nostro capo, nello spazio oltre il nostro capo, nel silenzio, nella presenza, nell'ascolto. Lasciamo spazio ad ogni sensazione. In questo momento l'ossigeno arriva al nostro cervello, lo nutre, lo risvegna. Viene attivata la nostra circolazione, il nostro cervello produce epinefrina, quindi noradrenalina, che stimola la voglia di fare, la motivazione. E lo stato di silenzio nel quale in questo momento siamo, stimola anche gli ormoni del benessere, della presenza, della felicità. Rimaniamo qualche istante ancora in silenzio, nella presenza. L'attenzione è rivolta nella sommità del capo, nella fontanella. E facciamo un piccolo pensiero di gratitudine. Ringraziamo qualsiasi cosa per noi sia importante. Una persona cara, il fatto di poter respirare, camminare. Facciamo un piccolo pensiero di ringraziamento. Una profonda ispirazione. Ed espirando dalla bocca, lentamente apriamo gli occhi. Riprendiamoci lentamente, respiriamo e normalizziamo la respirazione. E lentamente, appunto, recuperiamo presenza e riprendiamo la nostra giornata. Vi raccomando di praticare questa tecnica quando ne sentite il bisogno. Anche la mattina e la sera, all'inizio della giornata e alla fine della giornata. All'inizio della giornata per ossigenare il cervello e partire con più carica. Alla fine della giornata, invece, per scaricare tutta la tensione e lo stress che abbiamo accumulato. Potete ripetere la tecnica quante volte volete. All'inizio potrebbe esserci una grande ossigenazione perché non siamo abituati. Ma piano piano, col tempo, la nostra capacità polmonare si allena come ogni cosa che possiamo fare. Quindi otterrete dei benefici sempre maggiori. Se volete consigliare questa tecnica, basta consigliare questo video e potete praticarla anche con più persone insieme. Grazie mille. Grazie, grazie Daniel Lumeira. Alla prossima e quindi condividiamo. Buona giornata, buona ricarica e lasciamo andare. Quindi mattino e sera. Questa è la posologia. Buona giornata. Grazie. Grazie.